L'atto che abbiamo fatto adesso rappresenta una delle tante attività che la banca fa e che la caratterizzano proprio in quanto banca popolare. Banca popolare vuol dire che è prima di tutto al servizio del territorio, non solo per i servizi bancari, ma anche per fare in modo che il territorio cresca sempre di più anche attraverso l'aiuto economico che può dare, come dà, una banca locale che non porta gli investimenti fuori Piacenza, ma che investe a Piacenza quello che a Piacenza raccoglie. Questa è la grande caratteristica di una banca popolare e Banca di Piacenza ha questa caratteristica a pieno. L'USL mi ha regalato un bel gioello, un'ambulanza, che è una grande necessità per la nostra zona. Veramente hanno necessità di questa ambulanza. Tra l'altro siamo venuti a creare una bella rete di aiuti perché la banca di Piacenza aiuterà il trasporto. Certo, abbiamo avuto una bella rete di aiuti tramite bulla sporca, sempre fatto anche nel passato, però anche mangiacavalli perché la banca di Piacenza comunque, forse Fogliani, sono vent'anni che lavoro con loro nel calcio, che sia nel calcio, che sia tutti gli aiuti che voglio, quando io li parlo, sono sempre presenti nei miei confronti. Alla fine cerchiamo sempre di assolvere tutte le possibili richieste valutandole, quindi cercare anche di coinvolgere, come in questo caso per fortuna la banca di Piacenza ci ha dato veramente un grosso aiuto per poter ottimizzare nel trasporto della ambulanza in Senegal. Quindi a volte capita anche di ottimizzare nella raccolta con certe offerte che sono importanti come questa.